Vi faccio il video veramente con sta faccia sconvolta Perché è stata una partita sconvolgente, no a partire scherzi Sono tornato a casa molto molto tardi, mi sono visto praticamente dal cinquantesimo del secondo tempo Fino a fine partita, quindi non me la sento proprio di commentarla tutta Perché al primo tempo non l'ho visto, quindi proprio da quello che mi stava raccontato non è stata una bella partita Da quello che so De Vrij si dovrebbe essere mangiato un gol Non lo so, io raga vi ripeto, vi dico quello che mi hanno detto E poi ho visto il secondo tempo che abbiamo fatto veramente ridere, abbiamo fatto ridere i polli Prima battuta d'arresto, anche se è stato un pareggio Un pareggio è venuto un po' a culo con una ciabattata di Barella contro Slavia Praga Che in teoria per passare su un girone così di ferro con Barcellona, Dortmund e Slavia Praga Che adesso lo Slavia Praga sono diventati magicamente dei fenomeni Bisognava fare almeno 6 punti con lo Slavia Praga, 3 in casa, perlomeno quei 3 in casa E 3 al ritorno Invece abbiamo cominciato con un pareggio E vabbè, diciamo che è meglio il pareggio ovviamente che la sconfitta Però non è stata una bella Inter, un Inter molto sulle gambe, un Inter stanchissima Poi sinceramente scelte di Conte inconcepibili come Gagliardini, come D'Ambrosio Cioè, D'Ambrosio, ma perché non fai giocare Godin? Perché non hai fatto giocare Godin? Cioè, Godin ne ha fatto una partita meravigliosa Meravigliosa contro il... Contro chi era? Contro il... Non mi ricordo nemmeno quanto abbiamo giocato Penso a Coludinese Godin, partita meravigliosa Ha fatto pure la sispergol No, ha messo D'Ambrosio Poi metti Gagliardini Ce l'abbiamo i giocatori Mette Barella Non lo so Cioè, Barella è entrato, ha cambiato Non dico ha cambiato la parte Ha provato un po' più di vacità al centrocampo Oppure fai giocare Vessino E' meglio di Gagliardini Che poi mi hanno detto che Gagliardini non ha fatto nemmeno Tutta questa brutta partita Però, raga Ci vuole qualità in mezzo al campo Gagliardini la qualità non te la dà Davanti Lukaku e Lautaro Sa inizio contro la partita Con lei ci sembravano molto Cioè, molto insimbiosi Molto che giocassero bene insieme Invece sembra che, boh, non lo so In queste due partite Non è sembrato un grande Lukaku E non è sembrato nemmeno un grande Lautaro Poi Fortalevano è entrato Politano E ha cambiato Diciamo, ha cambiato Ha dato un po' più anche lui di vivacità alla partita Perché oggi il ragazzo è stata veramente una partita orribile Una partita bruttissima Però non dimordiamo Cioè, non disperiamoci Perché comunque quest'anno siamo una bella squadra Adesso andiamo a affrontare il Milan Visto che adesso sono risvegliati tanti milanisti Ovviamente erano in depressione Adesso si sono risvegliati Comunque, io ripeto che ci vediamo al derby Perché noi in campionato abbiamo 9 punti Cioè, non so, abbiamo cominciato così Però in campionato abbiamo 9 punti E lì vedremo La partita con il Milan come sarà Non possiamo sicuramente andare al derby Con questa pesantezza Poi di lì Entrano dentro altre cose Emozioni Il derby Quindi anche se magari sulle gambe Siamo più stanchi del Milan Entrerà dentro qualcos'altro E poi vediamo Quello che succede Io qui vi saluto Spero che il commento vi sia piaciuto Purtroppo, ragà, non ho visto il primo tempo Mi spiace Sempre Forza Inter Ci vediamo sabato Con la recensione Del derby Sperando di essere una recensione Che sia una recensione Felice Amala